Si presentino Maffoni, Sara, Argentato, Martina. A seguire si presentino Stavone, Cedricio, Giampa, Angela. Marco, Leo, Simone, Guerriani, Rami, Aria 2. A seguire i lapiti ordinando inizio lito, Aria 2. Abbiamo uscito il cazzo. Aria 2, terza e ultima chiamata, Guerriani, Rami, terza e ultima chiamata, Aria 2. Patanetta Nido, Alvodio. Patanetta Nido, Alvodio. Patanetta Nido. Missini, Jennifer, Alvodio. Patanetta Nido, Alvodio. Missini, Jennifer, Alvodio. Aria 2, terza e ultima chiamata. Vai! Patanetta Nido, Alvodio. Vai! Ehi! Ah! B****! Nooo! Oh! Ehi, come noi mi citteste manito da Eli! C. 柔uvi! Ma perché taematico?! B****! Andrei, c'era un momento in cui sembrava campione del mondo! B****! B****! ahhhhhhhhh